La leggerezza è non pigliarsi troppo sul serio, pigliarsi sul serio gli altri, non essere pesanti, per esempio, insomma quella è la mensa, diciamo guarda che ti sto aiutando, guarda che sto facendo, in tanti modi si fa, non è soltanto come dire, alcune volte siamo talmente assurdi che lo fai, ma che fai, non mi dici grazie, facciamo pesare agli altri quello che facciamo, poi lo facciamo in tanti modi, a volte così, un po' indiretti, invece la leggerezza è dire ma io sono contento di farlo, non pigliarsi troppo sul serio e provare a prendere un po' più sul serio gli altri. Qualcuno mi ha detto ma dopo l'autostima, abbiamo degli anabolizzanti, siamo diventati troppo, non è un problema di autostima, cioè benissimo, ma è proprio perché uno sa quello che è, mi prende alla leggera, e quando uno pensa di essere chi sa chi, poi l'autostima non basta mai.